Ed ecco l'occorrente per la nostra buonissima polenta alla zu. Una confezione di polenta, io la userò integrale, quindi 180 grammi di parmigiano reggiano, 50 grammi di burro, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, questo naturalmente è un quantitativo che ho scelto io, ma voi potete scegliere il vostro quantitativo preferito. Sale quanto basta, servirà sia per la preparazione della zucca che della polenta. Una cipolla, io la amo rossa, però anche dorata ci sta benissimo. E' una zucca mantovana, di queste qua, delle dimensioni di due mani vicine, diciamo così. Cominciamo subito. Come prima cosa cominciamo con il pelare la zucca. Per facilitarmi questo compito, perché la zucca in questione è veramente, veramente molto coriacea, io o la passo al microonde dopo averla aperta, quindi avrei proprio fatto un forellino per 3 minuti, oppure la butto in acqua bollente per 5-7 minuti. In modo che mi viene più facile proprio estrapolare la polpa. Pulisco con un cucchiaio la polpa all'interno dei semi e procedo con la pulitura della zucca. Adesso taglio a dadini sottili tutta la mia zucca. Mettiamo da parte la nostra zucca tagliata a dadini e prendiamo la cipolla. E tagliamo anche una cipolla piccola, non una cipolla troppo grande, a piccoli pezzettini. In una teglia a sponde alte mettiamo l'olio, la cipolla, un terzo del burro, che erano 50 grammi in totale, e un pizzico di sale. E lasciamo imbiondire la cipolla a fuoco moderato. Intanto in una casseruola versiamo 1 litro e 300 ml di acqua, quindi 1 litro e 3. Saliamo al nostro gusto e facciamo riscaldare fino ad ebollizione l'acqua. Casomai per insaporirla potete mettere qualche piccolo pezzettino di cipolla e di zucca, così ma proprio poco, giusto per dare un po' di sapore a quest'acqua, che sarà un brodino leggero. Non appena la cipolla avrà cominciato ad imbiondirsi, metto dentro la zucca. Tutta quanta. Rimesto e lascio andare per un po'. Aggiustatevi sale se necessario. Copro e faccio cuocere la zucca per una decina di minuti. La mantovana cuoce abbastanza in fretta. La zucca è quasi pronta, è il momento di preparare la polenta. Ho messo su a fiamma allegra la mia acqua, appena comincia a bollire verso a pioggia. Verso e lascio cuocere una decina di minuti, mescolando. In questo frangente aggiungo anche il burro. I due terzi che erano rimasti. Mescolate fino a che non sarete arrivati a giusta cottura e alla densità che più desiderate. In generale io mescolo per 7-10 minuti. A polenta cotta versiamo metà della zucca che abbiamo preparato. L'altra metà lasciamola per guarnire i piatti. 100 g di parmigiano. Io ve lo sto facendo vedere così a livello semplificativo perché già come vedete l'ho fatto e la videocamera non ha registrato. E rimestiamo bene il tutto. A questo punto potete impreziosire con qualunque altro tipo di formaggio. Se la volete più ricca potete mettere scamorza affumicata, oppure stracchino, oppure fontina. Quello che più desiderate. Ma non è bella? È bellissima. Bene. Mettiamola in piatto. Noi al sud la polenta la mangiamo morbida. E che loro come la mangiano? Loro la mangiano... In veneto la mattonella tagliata a fette e poi alla griglia. Oh no. Come contorno molto spesso. Ok. È il vostro pranzo preludio d'autunno. È bello e pronto. Io spero che questa proposta vi piaccia. Provatela e fatemi sapere. E soprattutto diteci la variante di formaggio con cui la impreziosirete o se la lascerete così. Grazie a tutti. Grazie a tutti.